Come a Brescia, come a Cremona, anche questa sera il Pescara, sul finire allo scadere è riuscito a trovare il gol del pareggio, un gol importante. In una serata che non è stata positivissima, di buono c'è però questo gol arrivato nel finale che è servito per evitare la seconda sconfitta di fila. Sì, no, non meritavamo innanzitutto di perdere questa partita perché nel primo tempo noi abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol che dovevamo sfruttare, l'ultimo passaggio, la conclusione. E addirittura ci siamo andati in svantaggio al 45, non sono l'unica possibilità di tiro che abbiamo consentito, si poteva anche evitare il gol. E poi nel secondo tempo è diventato difficile perché loro si sono chiusi tutti dentro l'area di rigori, gli spazi erano pochi, era difficile trovare anche lo spazio ma siamo stati bravi a ricoprire la partita. L'unica cosa che mi dispiace molto è l'infortunio di Antonucci. A proposito, cosa è accaduto? Perché c'è stata la sostituzione e pensavamo per motivi tecnici invece non è così. No, ha avuto un problema muscolare e parlando con il medico che l'ha visitato mi ha detto che era troppo rischioso perché correva il rischio di strapparsi e magari perde dopo due mesi. Perciò ha detto assolutamente di non farlo proseguire, il ragazzo ci aveva male perciò ho dovuto sostituirlo. Non lo sostituevo di certo perché era il migliore in campo. Infatti è sembrato strano perché era stato 3 milioni. Era il migliore in campo perciò chiaramente non lo sostituevo. Troppo facile però dire che questa sera le sostituzioni hanno deciso la partita perché l'ingresso in campo di Crecco, Del Sole e anche Monachello hanno cambiato il volto del Pescara. No, ma a volte si fanno delle cose giuste, a volte si può anche sbagliare ma dipende sempre dall'atteggiamento di chi entra, di chi si propone. Perciò è importante quello. Devo dire che i ragazzi che sono entrati sono entrati bene e hanno fatto loro dovere.